Quell'incapace di Radish è stato sconfitto Non capisco come si faccia a perdere contro due combattenti da strapazzo come quelli Mi interessano quelle sfere del drago Che fanno realizzare qualsiasi desiderio Andiamo Ho intenzione di chiedergli di renderci immortali Potremmo divertirci a combattere per tutta l'eternità È un'ottima idea Grazie